A Borutta la bastida di Sorres. Oltre 250 figuranti ricostruiranno in toto le abitudini e le usanze medievali. Il pubblico verrà coinvolto nelle gloriose battaglie, visiterà gli accampamenti militari, le falconiere, vedrà l'investitura dei cavalieri e assaporerà la vera cena medievale. E poi la fiera mercato, balli medievali, lavorazioni di metalli e ceramiche, tiro con l'arco storico, giochi medievali per i bigli. Il 21, 22 e 23 agosto a Borutta vivrete davvero un'esperienza imperdibile.